Buon pomeriggio e benvenuti a tutti quanti. Abbiamo un pubblico composito quest'oggi. Oltre alla presenza del magistrato consigliere Testini e del collega avvocato La Grotta, abbiamo una serie di nostri colleghi avvocati. Abbiamo poi gli studenti del corso di diritto amministrativo, non sono tutti, sono molti di più, però i sopravvissuti a questo incontro pomeridiano dopo la maratona di questa mattina, insomma sono non numerosi. E abbiamo gli studenti del secondo anno, i corsisti, della scuola di specializzazione per le professioni legali. Che saluto, oggi è il primo giorno di lezione del secondo anno di corso. E approfitto per dire due parole. Noi tradizionalmente abbiamo dedicato la prima parte del corso del secondo anno alla materia dei pubblici appalti. Quest'anno abbiamo invertito l'ordine di trattazione e abbiamo cominciato dalla trattazione tematica di argomenti di approfondimento su temi processuali del processo amministrativo di maggiore attualità e che presentino aspetti problematici non ancora risolti in senso univoco. La ragione di questa inversione è da rinvenire nelle notizie che tutti quanti ascoltiamo in ordine ad una imminente riforma del codice dei contratti pubblici. E allora a questo punto, se questa riforma arrivasse, fosse portata a compimento in corso d'anno, noi potremmo offrire ai nostri corsisti lezioni di approfondimento su una materia integralmente rivisitata. Per il resto la trattazione sarà tematica. Vi dico che oggi, come vi è stato preannunciato, il tema è quello non della legittimazione a ricorrere in senso generale, ma delle cosiddette legittimazioni straordinarie. I nostri relatori vi chiariranno ampiamente qual è l'oggetto dell'approfondimento. Vi dico come ulteriore argomento che la dottoressa Testini è una nostra specializzata nella scuola di specializzazione delle professioni legali, certo non l'anno scorso. È passato, diciamo, qualche anno, ma non è passato in vano perché è un magistrato stimatissimo nel suo settore. Non sottrago altro tempo.